Ascoltate, bambini, la vostra mamma vorrebbe tanto passare ore ed ore ed ore ad addobbare l'albero di Natale con voi, a fare il presepe, a mettere palline colorate in ogni dove, ma purtroppo la sua religione non glielo consente. Mamma è ebrea e non festeggia il Natale. È chiaro il concetto? E va bene, siete piccoli, non dovete capire tutto. Ricordate, quando sarete grandi non dovete pensare che la vostra mamma non si occupava del Natale. Non ce l'avrete mai con lei, non la biesimerete e non vi lamenterete di questo con il vostro futuro analista, d'accordo? Andate.